Ecco, ogni giorno Egli si umilia come quando dalla sede regale discese nel grembo della Vergine. Ogni giorno Egli stesso viene a noi in apparenza umile. Ogni giorno discende dal seno del Padre sull'altare nelle mani del Sacerdote. E come ai Santi Apostoli si mostrò nella vera carne, così anche ora si mostra noi nel pane consacrato. E come essi con gli occhi del loro corpo vedevano soltanto la carne di Lui, ma contemplandolo con gli occhi dello Spirito credevano che Egli era lo stesso Dio, così anche noi vedendo pane e vino con gli occhi del corpo dobbiamo vedere e credere fermamente che questo è il Suo Santissimo Corpo e Sangue vivo e vero. E in tal maniera il Signore è sempre presente con i Suoi fedeli, come Egli stesso dice, ecco io sono con voi ogni giorno sino alla fine del mondo.